Un'app che crea playlist personalizzate in base alle nostre abitudini. Andremo tutti in pensione? Ragazzi, teniamo duro, siamo l'ultimo baluardo della mente pensante. Amici, ma soprattutto amiche di SOS4DJ, sono Claude. Ancora, intelligenza artificiale generativa, playlist AI. Crea playlist personalizzate con suggerimenti, immagini, video, tutto ciò che riguarda noi utenti. La ricerca della playlist perfetta è diventata molto più semplice, così ci dicono da Playlist Artificial Intelligence. Questa nuova app che utilizza l'intelligenza artificiale per generare playlist personalizzate. Se ne sta parlando tantissimo adesso di questa intelligenza artificiale che sta veramente prendendo piede e ci sta piano piano soffocando. Intelligenza artificiale generativa è una nuova piattaforma che promette di creare playlist complete personalizzate con solo un paio di input dell'utente. L'azienda spiega che tali input potrebbero essere una combinazione variabile di richieste dell'utente, immagini, video, altro. Oppure se hai un certo stato d'animo o un tema musicale che sta cercando di curare, l'app Playlist AI può essere eseguita anche con richieste stranamente specifiche. Come andarti a cercare una playlist per un momento particolare, un mood, un'atmosfera. L'intelligenza artificiale può anche generare una playlist delle immagini. Basta dare al programma un'immagine del volantino del flyer del tuo festival preferito e lui crea la playlist in base a tutte le informazioni derivanti da quel volantino. Dei nomi degli artisti e l'immagine aggregando la loro musica in un unico output. L'app eccola qua, Playlist AI. AI, vedete, Artificial Intelligence Playlist Maker, funziona anche con i video consentendo agli utenti di identificare brani e suoni che potrebbero non essere ampiamente riconoscibili su piattaforme di social media come TikTok. Quindi molto utile questa playlist AI, una piattaforma come si suol dire freemium, cioè free ma con alcune caratteristiche da sbloccare ed è ora disponibile sull'app store. Al momento sembra solo per il mondo della mela, vedremo se verrà considerato anche il mondo Android. Il servizio monetizza la sua modalità pro con alcune caratteristiche di sblocco a 2,99€ oppure 19,99€ o 6,99€. Ma l'app sostanzialmente è gratuita. E andiamo a vedere il video ufficiale del Playlist AI. Vedete qua, descrivi la tua playlist, lui va a mettere dei campi, delle voci, cerca gli artisti, artisti che furono popolari negli anni 90, va a selezionare Blur, Depeche Mode, Britney Spears, va avanti. Ed ecco qua, creato la 90 It's, l'apre in Spotify ed eccola qua, la playlist personalizzata. Mentre qua può andare a creare una playlist in base al passato, Rewind in tutta la vita, 6 mesi di 4 settimane, lui fa in tutta la vita, Kanye West, Brockhampton, Next ed ecco qua, massimo canzoni per artisti, 5 o più, ordine delle canzoni. E tutto questo poi verrà aperto in Spotify. Eccola qua, la playlist pronta per essere ascoltata o suonata. Ma c'è di più, andando a cercare un'immagine, aprite dal vostro cellulare o dal vostro computer ed ecco qua il festival, il manifesto del festival, da dove voi potete cercare le varie tracce, le varie canzoni, i vari artisti che vi interessano per poi andare a creare la playlist. Per esempio qua col Quacella 2022, tutto il Rolling Loud 2022, fatto, pronti, puoi anche aggiungere artisti similari e poi una volta che ha calcolato tutto, va a crearti la playlist per il Quacella con tutte le tracce che riguardano quel mood, quel momento, quella situazione, in questo caso quelle immagini. Quindi, come dicono loro, la migliore app per creare playlist su Spotify e Apple Music crea playlist da suggerimenti artificiali intelligence, da immagini video e la tua musica più ascoltata. Trasforma i tuoi pensieri in una playlist con l'intelligenza artificiale, inserisci un prompt, un comando come musica pop dai primi anni 2000 o giochi da tavolo in un giorno di pioggia, come in questo periodo, e l'intelligenza artificiale andrà a creare il tuo mix perfetto, oppure puoi trasformare qualsiasi festival, qualsiasi flyer in una playlist e playlist AI prenderà i nomi degli artisti, come avete visto qua dall'immagine, e li trasformerà in una playlist, oppure identificare canzoni da TikTok e altro video e creare, andando a creare la tua scaletta del festival, dei TikTok, di tutte le playlist o di tutte le tracce che vi interessano. Non ci batterete mai, avete voglia di creare playlist, intelligenze artificiali, robot, macchine che vanno in sync, che fanno anche il caffè corretto alla sambuca, oppure un buon ginseng, nada, de nada, de nada, la mente pensante non se batte, ovvio che tutto ci può aiutare, ma poi la differenza la facciamo sempre noi, e se vuoi atmosfera, vuoi mood, vuoi situazione, vuoi empatia col pubblico, e non vuoi che tutto sia freddo, è una macchina, devi sempre passare dalla nostra testa, e fino a quando c'è la testa, a volte c'è, a volte non c'è, o meglio c'è, ma è assente e non elabora, ma finché elabora, siamo noi i padroni di noi stessi, artefici del nostro destino, per cui benvenga playlist AI con tutte le playlist che ci può creare, ci può aiutare andando a cercare dare delle tracce, un po' come fa Virtual DJ quando dai suggerimenti delle tracce correlate o altre intelligenze artificiali che abbiamo visto qua nei video, però alla fine bisogna decidere noi, viene tracciato un solco, ma poi siamo noi a decidere che cosa andare a seminare e se percorrere quel solco lì, insomma fin quando ci siamo la musica passa dalla nostra testa, fatemi sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti, se vi può interessare questa intelligenza artificiale, questa app, se andrete a provarla, oppure se fate ancora con la vostra testolina 100%. Corsi per DJ, corsi di produzione musicale, potete fare tutto online con il sottoscritto, contattandomi nella sezione contact, compilando il form oppure tramite le nostre pagine social, per chi sono indicati i corsi e le lezioni, per chi inizia da zero, per chi è già bravo e vuole migliorarsi, ma anche per chi vuol fare il salto definitivo verso il professionismo. Consulenze su tutte le tematiche trattate da SOS4DJ e nello specifico per le questioni burocratiche, se avete problemi hardware, software oppure proprio di burocrazia del mondo in regola del DJ. Si aggiunge ai social il nostro TikTok, vai e seguici con video in stile, ovviamente TikTok molto corti con tutti gli argomenti che ti possono interessare. C'è anche il nostro canale Telegram, se vuoi puoi unirti a noi e gratis con notifiche silenziosi, una chat interna, gli scleri, dicolo dai fuori onda. Il canale YouTube, ancora non ti sei iscritto? Vai e fallo subito così ci farai crescere, ci darai una grossa mano, puoi anche abbonarti se vuoi per avere una corsia preferenziale su SOS4DJ. Tantissimi video divisi in playlist in modo che tu possa cercarlo molto più facilmente o anche tramite il tasto cerca con la lente di ingrandimento. Il nostro ufficio al merchandising con la linea Anyway, SOS4DJ, I play what I like, suono solo quello che mi piace. Vuoi rimanere incollato e sapere tutto ciò che ti interessa di SOS4DJ prima degli altri, puoi attivare la campanella oppure puoi mettere un mi piace e condividere se pensi che tutto questo materiale possa non solo essere utile a te, ma anche a qualche tuo collega e amico. Ci vuoi aiutare? Lo puoi fare tramite Supergrazie qua sotto o Sostieni SOS4DJ e sarai uno dei nostri. Ci provano tutte le maniere a scalzarci, ma noi dobbiamo tenere botta essere l'ultimo baluardo della testa pensante e ragionare sempre su quello che andiamo a fare perché altrimenti più siamo piatti, lo dico sempre, e più siamo sostituibili. E in questo caso l'intelligenza artificiale ci fa un... così. Mentre se lavoriamo bene, studiamo e facciamo tutte le cose come dobbiamo fare sempre con la testa pensante e ragionando sul pubblico e tutti i vari feedback, allora l'intelligenza artificiale non ci potrà mai raggiungere. Aspetto la vostra opinione qua sotto nei commenti. Da parte di SOS4DJ e Claude, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una meravigliosa giornata e ricordandovi l'iscrizione al canale che per noi è importante, è importantissima proprio per crescere e per darvi sempre tutto a gratis, ricordandovi che la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio. Piripi.